e posso anche leggerne i tuoi pensieri non esageriamo ok tu sai che cosa ho scritto no nella mia lunga esperienza ho fallito solo in un caso questa è la mia seconda paziente io non do la mano e non ascolto i consigli di nessuno chiaro la fantasia potrebbe ucciderla sono un adolescente un adolescente furba come una volpe io non rinuncio se tu ingoiassi moscerino avresti più cervello nello stomaco che in testa sono una donna devo farmi bella il bagno è occupato per otto ore sono un uomo sento la tua puzza fin qua dovresti lavarti più spesso già fatto lo scorso mese oh Oh, 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 oh. Non ti riuscirà di nuovo. Tu sai che cosa ho scritto adesso?